Continua la strategia di Suzuki di introduzione di nuovi modelli, visto il successo del 2019 della nostra gamma ibrida, anno da record, anno che ha visto Suzuki superare le 38.000 immatricolazioni e il 2% di quota, record di sempre. Quindi è un piacere oggi annunciare l'ingresso in gamma di Vitara ed S-Cross ibride. Entrambe le vetture si basano sull'adozione di un motore 1.4 turbo booster jet con sistema ibrido e per entrambe le vetture rinnovamenti non solo in termini di motorizzazione ma anche in termini di contenuti. Per Vitara il nuovo design dei fari full LED arricchisce e ringiovanisce il frontale, per S-Cross anche l'adozione di nuovi sistemi di sicurezza ADAS per mantenere sempre una grande attenzione a quella che è la sicurezza di chi guida le nostre vetture. In termini poi di comfort all'interno per entrambe le vetture sin dal primo allestimento troviamo di serie il sistema multimediale a 7 pollici che permette di configurare e collegare i nostri smartphone, cosa sempre più richiesta dalla clientela. L'offerta ovviamente non poteva mancare il sistema 4x4 All Grip Suzuki, il sistema 4x4 All Grip Select che permette di selezionare fino a 4 posizioni ed avere anche il bloccaggio del sistema centrale e del differenziale per avere la motricità su tutte le 4 ruote. L'offerta si struttura anche in modo molto semplice per quello che è il livello di allestimenti, due livelli di allestimenti per S-Cross, tre livelli di allestimento per Vitara, molto ricchi con l'adozione degli ADAS di cui parlavo di prima, già dal primo ingresso di livello che è la versione Cool che parte per Vitara da un prezzo di listino di 24.200 euro, 24.490 per la S-Cross. Le vetture saranno presentate ufficialmente con un porto aperto il prossimo 8 e 9 febbraio in occasione anche del legame con il Festival di Sanremo, la Suzuki è l'auto ufficiale del Festival di Sanremo e in concomitanza del lancio il prezzo di lancio di partenza per Vitara sarà ad esempio di 20.950 euro, questo valido fino al 31 marzo. Quindi una grande gamma, una grande gamma ibrida che sicuramente potrà accontentare un pubblico molto vasto, ossia di persone fino a 45 anni, di single alla ricerca di una vettura con cui poter liberamente esprimere se stessi, ma anche con un occhio alle famiglie perché la flessibilità e lo spazio che sono offerte in entrambi le vetture possono accontentare anche un target più trasversale di carattere familiare.